Sono Alessandro Nigro, ho 15 anni e frequento il terzo anno del liceo scientifico a Mamiani a Roma. Ho partecipato al progetto SoftBot che mi è piaciuto molto e mi ha aiutato a conoscere, ad approfondire dei temi che inizialmente non mi erano molto chiari e in alcuni casi non conoscevo proprio. Infatti dei quattro temi di cui si è parlato nei quattro incontri a cui ho partecipato, conoscevo solo uno, ovvero l'argomento che trattava i chatbot, mentre gli altri tre inizialmente mi erano del tutto sconosciuti. La mia conoscenza relativa ai chatbot si limitava solamente al nome, in quanto non conoscevo minimamente di cosa trattassero, come potessero essere utili e come si potessero programmare. Il progetto mi ha aiutato a conoscerli e mi ha dato tutte queste informazioni. Infatti mi è piaciuto molto come era strutturato il progetto e questa è la cosa che più mi ha colpito e mi è piaciuta. Infatti la suddivisione e l'organizzazione del progetto mi ha aiutato sicuramente a comprendere meglio questo argomento e di conseguenza questo argomento e il progetto insieme mi hanno aiutato a farmi un'idea su una futura scelta universitaria che già da prima stavo considerando ma che grazie al progetto ne sono ancora più sicuro. Farei senz'altro un nuovo corso di questo tipo perché mi è interessato molto e gli argomenti di cui si è parlato mi sono piaciuti e di certo mi potrebbe piacere parlarne nuovamente di altri.